ehi signore e signori oggi siamo qui in questo nuovissimo video aggiornamento e per chi lo sempre guarda la data per la parte per il video a me non piace guardare la telecamera telecamera questo con cellulare comunque siamo in questo nuovissimo video aggiornamento per parlare del fatto che non stiamo facendo video non stiamo facendo video da tre settimane nessuno che ci ha chiesto nei commenti comunque perché non stiamo facendo video brutti stronzi siamo rimasti un po' indietro con la scuola quindi stiamo cercando di recuperare l'adozione a minuto molto molto easy quindi qualcuno vorrebbe chiedersi perché sto facendo questo video tanto alla fine nessuno se l'ha chiesto quindi vaffanculo perché voglio tenere il canale a ti probabilmente inizierai a non riuscire video dopo che io avrò finito la scuola perché in realtà abbiamo già abbiamo registrato i video il problema è soltanto montarli editarli tutto il resto io ci metto circa due ore a video ho bisogno di tempo se li abbiamo i video però io non voglio editarli perché preferisco studiare anziché editare video per ora comunque di sicuro uscirà questo video poi il 5 il 5 giugno di andare a scuola il 5 probabilmente iniziò ad editare i video e quindi magari usciranno poi forse probabilmente probabilmente ci prenderemo una vacanza cioè caldo caldo stiamo tranquilli nel senso che non abbiamo neanche iniziato da un mese abbiamo fatto due settimane di video poi adesso siamo in attiva tre settimane in attiva tre settimane poi iniziamo a fare i video per due settimane e poi andiamo in vacanza per tre mesi perché a noi piace quindi qualcuno vorrebbe chiedersi ma giornale nessuno ti ha chiesto e cosa diavolo state facendo quindi perché stai vedendo questo video perché non voglio tenere questo in attivo già dovrò editare questo video però forse ma sì molto tardi ragazzi questo è un dettaglio ma che di meno quindi vediamo dopo poi ciao 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 ciao